Questo premio rappresenta un momento di rinascita della nostra scuola. Noi siamo allocati qui in una sedia provvisoria, in un centro polifunzionale che ci sarà offerto dal comune di San Ginesio a seguito del sisma. L'iniziativa è rivolta ai ragazzi sia interni sia esterni, cioè sono i ragazzi delle scuole medie che si cimentano in una scuola che è nuova, insomma una scuola del saper fare, quindi una scuola che guarda più che alle conoscenze, alle competenze, quindi il saper fare, quindi che insieme alle abilità e alle conoscenze rende il ragazzo protagonista del suo futuro, quindi un ragazzo protagonista del futuro anche come imprenditore e noi questo specialmente al professionale, il nostro obiettivo appunto è di rendere i ragazzi capaci di sapersi inserire agevolmente nel mondo del lavoro. Questo concorso viene fatto grazie alla generosità della signora Ranucci che noi ringraziamo perché non è questo il primo suo intervento a favore nostro, ma è da tanto che la signora c'è accanto con donazioni, con attenzione nel riguardo della scuola e lei ci tiene essenzialmente perché i giovani abbiano un futuro nel mondo del lavoro. San Ginesio mi è sempre apparsa come la città delle scuole, ce ne sono sempre state diverse, buone e amici giovani e meno giovani negli ultimi anni mi hanno segnalato una scuola particolarmente buona e di cui erano contenti, l'avevano frequentata molto volentieri e quelli un po' meno giovani si ricordavano di averne ricavato degli ottimi frutti. Incontrare delle persone così contente della scuola che hanno frequentato non è così facile e quindi mi è sembrato bello aiutare in qualche modo, a misura in cui mi era possibile, una scuola così in un paese a cui sono legato la mia storia. I ragazzi dell'Ipsia Renzo Frao hanno partecipato a questo evento producendo degli elaborati ispirati alle discipline tecnico-scientifiche che vengono affrontate nella scuola, nella nostra scuola. E quindi circuiti elettrici, circuiti di automazione, alimentatori, ad aria compressa e così via. Anche dal punto di vista dell'arredamento abbiamo avuto degli elaborati molto interessanti con dei prodotti ispirati al design artistico e anche validi dal punto di vista tecnico. Molto interessante è il prodotto che è stato presentato da un ragazzo del primo anno Primo Mat, il quale ha proposto una stampante 3D interamente realizzata da lui. Anche applicazioni dell'elettromagnetismo sono stati molto interessanti e così come lavorazioni fatte al tornio, la penna per esempio che ha vinto il primo premio del secondo anno. Oppure anche molto interessante è stata la lampada e con tutto lo studio della rifrazione della luce attraverso i materiali proposta da un ragazzo del quinto anno della sezione arredamento. Grazie per la visione! Grazie per la visione!